oggi ragazzi martedì secondo giorno di allenamento faremo addominali ragazzi dopo il petto alleneremo gli addominali come primo esercizio faremo crunch qui alla machine a cavo alto metteremo 20 chili e faremo tre serie per 15 20 le petizioni dopodiché il crunch laterale con 10 kg in meno faremo questo qua è come terzo e ultimo esercizio andiamo a fare il leg raises da sé a tutti però a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo esercizio andiamo a fare i crunch laterali, ovviamente, cosa andiamo a fare? Le vale 10 kg e farlo con 10 kg. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esercizio terminato. Come ultimo esercizio andremo a fare le glancesi da seduto sulla panca, ovviamente. Faremo tre serie per 15 repetezioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.